Consigliere Pettinari, lei oggi denuncia che nei pannelli esterni dell'ospedale Covid di Pescara sarebbero presenti delle fibre di amianto. A seguito di segnalazioni ricevute dell'attività di sindacato ispettivo, posto subito delle richieste alla Regione Abruzzo circa l'eventuale presenza di fibre di amianto nei pannelli tamponatura esterni. Due lettere non ho avuto risposta né dalla Regione né dal Comune di Pescara, sono stato costretto a fare una diffida, solo a seguito della diffida la AS mi risponde confermandomi appunto la presenza di fibre di amianto all'interno dei pannelli di tamponatura esterna dell'ospedale Covid. Io se fossi stato al comando di Regione Abruzzo al di là delle previsioni normative non avrei mai consentito la realizzazione di un ospedale Covid sapendo che all'esterno vi sono appunto pannelli di tamponatura con fibre di amianto. E per la delicatezza della patologia legata al Covid e per la pericolosità delle fibre di amianto. Al che che cosa ho fatto? Ho presentato una nota dettagliata a Regione Abruzzo, alla AS, con tutta una serie di requisiti stringenti e puntuali. Uno, perché non si è proceduto alla bonifica, alla rimozione delle fibre di amianto prima della realizzazione dell'ospedale Covid? Come avremmo fatto chiunque, come ragionevolmente avrei fatto io al comando di Regione, ma chiunque? Due, se è stata prevista una somma all'interno degli oltre 10 milioni di euro per la realizzazione dell'ospedale Covid, proprio per la rimozione della bonifica dell'amiando. Se hanno fatto le analisi sulla consistenza e il grado di pericolosità delle fibre di amianto, perché la normativa parla chiaro, dice se c'è un alto grado di pericolosità bisogna procedere immediatamente alla bonifica dell'amiando. Ho chiesto di conoscere se è stato messo in atto un programma di formazione e informazione del personale sanitario e dei degenti, perché anche questo dice la normativa. Tra l'altro mi arrivano nuove segnalazioni dicendo che all'esterno dell'ospedale Covid vi sarebbe una scala antincendio inagibile e viene utilizzata la scala antincendio interna. Potete capire la differenza sostanziale dall'avere una scala esterna o una scala interna, io l'avrei messa subito in funzione, avrei rispristinato la funzionalità. Mi si chiede, mi si dice altresì che vi sarebbe un solo ascensore di piccole dimensioni all'interno del quale non entra un normale letto di degenza e i degenti, i pazienti, quando devono essere sottoposti a tacca risonanze magnetiche, devono essere posti su una barella piccola, che è l'unica che può entrare in ascensore e potete capire il disagio. Mi si dice che laddove si dovesse raggiungere la capienza massima di posti letto non vi sarebbe nemmeno lo spazio necessario dei due metri tra un letto e l'altro per far operare agevolmente il personale. Non sempre è stato utilizzato una barella a biocontenimento per il trasporto dei pazienti. Alla luce di tutto ciò io dico sono indignato. Hanno fatto due inaugurazioni in pompa magno, alle quali hanno partecipato tutti i politici e poi ci ritroviamo a scoprire oggi, perché questa è una scoperta clamorosa di avere comunque un ospedale in cui i pannelli esterni contengono fibre da amianto. Ecco, questo è un problema serio, abbiamo visto.